benvenuti in questa nuova breve puntata di problema per problema dalle 18 e 30 del 25 giugno il traffico ferroviario fra cornuda e alano fenerva al dobbiadene linea padova cal alzo e sospeso per la presenza di rami caduti sui binari dovuto alle avverse condizioni meteo che stanno interessando lo zon sul canale marco frecciargento troverete tanti video in stazioni di transiti partenze arrivi con treni di ogni categoria canale consigliato da alessandro 2302 in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale sul posto i tecnici di rfi e un'ultima ora a proposito di veneto due nuovi disagi il caimano 6 5 6 0 6 3 ha subito un guasto a conegliano in attesa della 402 ad amestre invece l'espresso 14 0 7 9 14 0 8 0 partirà in ritardo da conegliano per l'urde bene grazie per averci seguito una buona domenica a tutti